Tecnicamente sono in un villaggio nuovo, lì ci sono le teste di Halloween e qualcuno qua mi ha detto che c'è un misertero strano E mi sa che l'ho già trovato questo mistero, mi stavo chiedendo ma dove caspita è sto mistero Le teste di Halloween saranno? No, evidentemente c'è effettivamente una strana cosa Dobbiamo seguire le macchie di sangue, vediamo dove portano perché effettivamente è strano Ok, ok, sembra effettivamente che ci sia qualcosa che non cosi qui Oh santo cielo, ma che diavolo è sta roba raga? Cioè questo qua praticamente è un villager che tutto quanto è infilzato E questa cosa dovrebbe essere una persona che diciamo senza corpo con... non dico più niente, guardate Oh mio dio che schifo raga, ma che diavolo di villaggio è questo? Non è un mistero, questa cosa qua è un... Ok, non so nemmeno come definirlo sinceramente, però vedo che qua si scende, quindi... Ok, scendi la mela che mi stavo aspettando bellamente... no 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 raga 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 Ok ok, questi cosi qua rispawnano e quindi io direi di andare avanti il più velocemente possibile Santo cielo... no... 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 no per favore, per favore stai lontano Sto per morire, sto per morire, sto per morire, sto per morire... Ok, allora... vai, veloce, veloce, veloce... veloce... perché non va? Raga non scende, perché diavolo non scende? Raga non sta scendendo accidente... oh oh non scende porca di quella miseria quanto odio sta... No raga mi sta per rispawnare Alex... poi perché c'era Steve prima? Basta, vai via Alex di me... brutto schifoso... ok... ma perché diavolo non scende? Ah ok, bisognava salire, scusate, ero stupido io, mi sa che ero stupido io, forse sì... Lì ci sono altre tracce da seguire e ci sono rumori inquietantissimi qui in c'è... Raga mi sto cagando addosso... No per favore, no 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 no, no no no, allora... caspita... ho trovato la casa di Andy la mela... Andy de... 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 polcoso... Allora tecnicamente io questa qua, io voglio capire cosa c'è dentro questa casa... E tecnicamente io potrei anche uccidere Andy la mela... No aspettate un attimo, ci ho ripensato, sapete perché? Guardate sopra, vedete praticamente dove c'è scritto Andy... E c'è scritto 927, 918 di mille... Praticamente quella è tutta la sua vita e guardate quanto lentamente scende... Ok, come non detto mi sta per uccidere lei, sto per morire io... Ok, 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 dobbiamo capire quale sia il mistero di questo villaggio... E perché diavolo si sia scatenato una maledizione su di noi... Scrivetemi nei commenti se però volete che entriamo in quella casa di Andy... Perché io lo voglio...